Due distinti gruppi criminali in tutto 15 persone con legami di parentela tra loro che con base operativa nei quartieri di Calcedonia e Petrosino spacciavano eroina, cocaina e metadone in tutta la città di Salerno ed anche in alcuni comuni limitrofi. La direzione distrettuale antimafia ha diretto le indagini della squadra mobile di Salerno che oggi è arrivata a chiudere il cerchio sul traffico di droga nel comune capoluogo dove era stato organizzato un vero e proprio call center con utenze telefoniche dedicate per ricevere e soddisfare le richieste di sostanze stupefacenti. Le indagini, mediante intercettazioni, hanno permesso di ricostruire le diverse fasi, la filiera dello spaccio, i compiti di ogni indagato all'interno dell'organizzazione. Entrambi i sodalizi avevano organizzato un call center dove gestivano le richieste e le successive consegne che avvenivano attraverso pusher che si muovevano con ciclomotori come dei veri fattorini, utilizzando veicoli che cambiavano ogni giorno per raggiungere i luoghi concordati. In alcuni casi speciali, quando il destinatario era un tossico dipendente ristretto in regime di arresti domiciliari, le cessioni potevano arrivare fino al domicilio. Per non essere scoperti, la prenotazione della sostanza stupefacente era effettuata utilizzando un linguaggio in codice. Così la cocaina era chiamata bianco-veloce. L'eroina diventava scuro o lento. Nel linguaggio degli spacciatori, il metadone veniva chiamato sciroppo. La cosa che è singolare di questa indagine non sono tanto le attività intercettive che sono un classico di questa attività di indagine. Sono le attività di videoripresa che documentano le attività di cessione ma soprattutto l'utilizzo che è stato fatto in questa attività di indagine dello strumento dell'arresto di ferito. Questo ha consentito di non intervenire al momento della singola cessione ma successivamente o a valle della consegna o successivamente con la richiesta cautelare. Cosa che è stata fatta